Buone notizie sul fronte del Fondo di Mutuo di Soccorso del Comune di Milano. Stiamo raccogliendo fondi per aiutare chi sarà più colpito da questa crisi. La buona notizia è che abbiamo tantissime piccole offerte, ma per esempio questa mattina, a cinque minuti prima del collegamento, abbiamo visto arrivare un bonifico da un milione del signor Giuseppe Caprotti, che ringrazio. Domani spiegherò meglio come funziona questo fondo. Però intanto andiamo avanti, io non posso che chiudere col mio solito invito. Stiamo in casa. Buona giornata a tutti voi.